Allora, premesso che sono contenta che il Milan ha vinto, sono contenta che il Milan è primo, sono contenta per la quinta doppietta di Ibra in otto partite nonostante lui è sempre vecchio quello che si deve ritirare, sono contenta. Ma io tirerei, vi tirerei in bocca un cofanetto di Pandora tutte le volte che dite che il Milan ha culo perché questa partita è stata la conferma che il Milan ultimamente è una delle squadre più sfigate del mondo. Esempio, esce Chier per mal di schiena, non so come si dice quel termine tecnico e giocherà a Calulu, quindi molto probabilmente non ci sarà per la partita con l'Atalanta, non è finita qui. Romagnoli ammonito solo se respira, indovinate? Era diffidato, salterà l'Atalanta, la coppia di centrali di difesa sarà Calulu Musacchio. Calulu Musacchio, Calulu Musacchio, non so se avete sentito bene ma ve lo ripeto, Calulu Musacchio giocherà con l'Atalanta. Vi sembra finita? Non è finita ragazzi, non è finita perché Salmakers decide di auto-aggiudicarsi premio del Best Coglione 2021. Nonostante la prima munizione non c'era perché Abisso aveva palesemente la maglia del Cagliari stasera, Che cosa fai? Cosa fai? Cosa fai Salmakers? Che fai? Cosa? Che volevi fa? Che dovevi fa? No, veramente ragazzi, incredibile. Ah, voi un'altra cosa? Se giudicate quello che non è il nostro rigore, andate a guardare un altro sport ragazzi. Andate a guardare il padel, ci sono tanti bei sport, il ping pong, il biliardo, frisbee, pattinaggio sul ghiaccio, ma non guardate il calcio se mi dite che quello non è il rigore ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando veramente? Cioè, vi attaccate ai rigori quando non parlate giustamente del giallo inesistente a Romagnoli perché vi conviene a voi. Quella non lo dite state zitti, però parlate dei rigori del Milan. Incoerenti merda che non siete altro. Guardate le partite invece che guardare le minime cose calcolate. Cioè, io per la prossima partita mi devo prendere un taccuino, un quadernino per gli indisponibili. Cioè, voi lo sapete quante partite abbiamo giocato con tutti i titolari e tutte le riserve? Una sola. Una sola con tutti i giocatori disponibili. Con il Napoli. Poi non abbiamo mai giocato con tutti. Infortunati, diffidati, squalificati, covid, che palle. Cioè, allora, facciamo la lista veramente di chi non potrà giocare con l'Atalanta. Teornandet per covid, Ciala per covid, Rebic per covid, Krunic per covid, Benasser per infortunio, Gabbia per infortunio, Kier non so se ce la farà, poi Salmachers perché è stato squalificato. Se contano sulle dita di due mani, ragazzi, ma forse me ne sarò scordato anche qualcuno. Ma non è possibile, ragazzi. Non è proprio matematicamente possibile tutta sta sfiga. Poi capirai, il palo a partita lo dobbiamo prendere perché lo dobbiamo prendere. Chiusa sta manfrina dei due minuti che ci abbiamo sfiga. Quindi, per favore, la prossima volta che dite che il Milan ha culo, andatevi a vedere Cagliari-Milan stagione 2020-2021 2-0. Guardatevi con la partita perché la conferma che il Milan non ha culo. Non ha culo il Milan. Detto questo, la partita si divide in due parti. Primo tempo, un primo tempo combattuto, nonostante sia una partita molto difficile perché il Cagliari ha giocato molto bene. Anzi, onore al Cagliari che ha fatto veramente una bella partita stasera. E poi il secondo tempo, dove non abbiamo per niente giocato. Se non per due o tre occasioni. Perché per il resto non abbiamo giocato per me nel secondo tempo. È stato un infarto continuo. Fate una statua, signori, a Gigio Donnarumma, per favore, sotto casa sua, in Piazza Duomo. Statue ovunque di Gigio, voglio, statue ovunque. Porca miseria. Assurdo. Vabbè, Romagnoli oggi ha giocato bene. Kier quel poco ha giocato bene. Calulù, ragazzi, forte. Mi piace Calulù, apriva gli spazi in una maniera incredibile. Dalotte, ragazzi. Boh, Dalotte è quello che è, non è Teo Hernandez. Dobbiamo abituarci finché non guarisce dal Covid Teo Hernandez. Calabria oggi è uno dei migliori in campo. Non me lo spiega questa sua evoluzione. Che sì, oggi bene. Bene tonali, ragazzi. Quante volte vi devo dire che bisogna aspettare che un giocatore fa più partite per essere un buon giocatore. E infatti tonali si sta dimostrando molto forte, molto capace nelle ultime partite. Bisognava solo aspettare. Meno male Sandrino, io sono sempre stata con te. Poi, poi, Brian Diaz, ragazzi, mi è piaciuto molto. Un po' spento nel secondo tempo, ma ci sta, ragazzi. Ci può stare. Comunque, anche lui uno dei migliori. Castiglieco e Oghe, in questo tipo di partite sembrano due impediti. Oghe non ha praticamente giocato. Castiglieco, sì, più che altro Castiglieco faceva il lombrico, stasera stava sempre a terra e ovviamente del Cagliari. Un giallo c'è stato? Assolutamente no. In quelle occasioni in cui Castiglieco stava a terra, neanche un tipico giallo. Arbitro, abisso, ma che lavoro fai? Raccoglici corie? E poi, vabbè, ragazzi, Zlatan, neanche lo commento perché c'è. Cosa gli volete dire a Zlatan? Che gli volete dire a Zlatan? Cioè, raga, è incredibile. È veramente incredibile. Detto questo, ragazzi, firmiamo una petizione, una colletta per andare a giocare noi, invece che la primavera contro l'Atalanta. Oh, puntualmente, quando dobbiamo giocare con l'Atalanta, il patatrack succede. Vabbè, comunque sì, le luci sono fighissime, cambiano colore. E niente, che Dio ce la mani buona con l'Atalanta e che non succeda quello che è successo l'anno scorso.